Il primo è la sua metà della piramide, giusto? Giulia, qui sta la punta della piramide? C'è la mia mamma! Grazie. 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 This is mummy area. Oh, I can see mummy. I can see mummy. I can see the mummy. It's the same. I can see the mummy. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.